Soltati, buona caccia! Leus a Voduno, il capitano segue la solita routine. Controllerà le pattuglie intorno al Tempio sul fiume. C'è un po' di più. Ecco, dovrebbe avere una chiavetta di sicurezza. La cassaforte non sarà difficile da trovare. No, dai, continua a fare quello che stavi facendo. E' Funko, tenetele occupati, suonerò l'allarme. Ok. Comunicazioni radio molto attive. Vi verranno a cercare, Fireteam. Ricevuto, ci siamo. Derivate Astel Sparer. Giù, un cecchino avvistato! Per il suo scopo dei posti in arrivo nella mia posizione! Preparatevi, voodoo, hostili in arrivo! Untacked! In mio supporto! La password sulla chiavetta dovrebbe essere sincronizzata con l'orologio della cassaforte. Inseritela! Gunner biome! Merda! Ma vedete! I tecnici dicono che ci siamo aiutati se interroggiamo l'alimentazione della cassaforte. Tecnici generatore. Eccitis! Si solo una fondata aiutare. C'è un'illassertata che conquista di alico il modo fondato. Altaria tutte le scopo dei piedi sulie. Orecchino! Tutti le scopo delle scopo delle segnuazioni, Non ci sono azate! una serratura a tempo cazzo almeno non l'abbiamo bloccata inserite la password e attivate la serratura attento amici in arrivo mimetizzati non c'è altro da fare che attendere l'unica azione dell'energia va a scassare un allarme avrete compagnia patch me up rinforzi in arrivo has to spawn finalmente ora dovreste poter aprire la cassaforte prendete who's got a med kit a pi a r a 6 ... ... ... ... still rocks non scappare! fermateli ora! contact Reloading Get with the chopper Get with the chopper You've done your best, team No one is dead Linea piazza Gp So Step Step Grazie a tutti